In Italia sono 111.000 i negozi al dettaglio spariti fra il 2012 e il 2023. Un crollo che ha interessato anche 24.000 attività di commercio ambulante. Solo a Bari sono state mille le chiusure. Un'emergenza, quella della desertificazione commerciale, che mette a rischio un comparto fondamentale per l'economia e che può essere arginato attraverso adeguate politiche di rigenerazione urbana. Di questo si è parlato già a Bari in un convegno organizzato da Confcommercio. Faremo formazione per ogni comune che ce lo chiederà e cercheremo di mettere in moto quei meccanismi che ancora possono darci la differenza qui in provincia. Abbiamo bisogno di donne che fanno gli imprenditrici, di giovani che fanno gli imprenditori e noi li formeremo per questo. L'obiettivo è promuovere una nuova visione della città sostenendo politiche urbane e territoriali per migliorare l'ambiente urbano e la vita dei cittadini. Il commercio, lo diciamo sempre, è l'anima della città, non è una battuta ma è una grande realtà e lo scopriamo dove il commercio viene meno, dove, come sta accadendo in questi anni, avanza la desertificazione commerciale. Negozi che chiudono, attività che devono tirare giù la serra cinesca. Secondo Confcommercio, combattere la desertificazione commerciale passa dunque da una profonda rigenerazione urbana e da una riforma fiscale. Abbiamo dei dati preoccupanti sull'Italia perché il numero di esercizi commerciali è in contrazione e quindi è necessario pensare lontano, pensare che le città soltanto con dei centri commerciali esterni o con dei poli di uffici lontani si impoveriscono. Per questo servono azioni delle politiche urbane, delle amministrazioni comunali, ma serve anche molto la creatività e la progettualità delle associazioni.